Buona partenza, Bellusco, Bellusco, Civisello E poi dai successivi sopra i punti, sopra i punti, quindi solo questo passaggio non assegna punti in palio Abbiamo Bellusco, Civisello, Bellusco, Bellusco Buona partenza, Bellusco, Civisello sedi finali in quanto 50 partenti in due batterie da 27 Berlusco davanti all'interno Berlusco, bell'attacco da parte dell'atlete di Berlusco i primi due 45 e 46 Cristian Marzotti e Leonardo Mosso vai Capri vai su vai qui andiamo dentro troppo bene l'italiano di Sani occhia che prendono un buco questi prendono un buco due atleti di Piranesi in line questa volta davanti a tutti ma prova l'attacco all'esterno a un atleta del Lugolbo vediamo se riusciranno a passare davanti dovrebbe essere sì 2,49 e 46 2,49 e 46 regati 46 seconda punizione 46 seconda punizione è l'ultimo prendere di Cantù padernese a P-Line Cantù padernese a P-Line ogni giro è una sorpresa ricordo il numero 46 seconda munizione 2-5-5 5-5-5 e 2-11 con Siviglia a un punto capare l'ultimo gira ancora 3 punti 2-5-5 5-5-5 e 46 dai 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 proviamo in passione con Siviglia sarà l'8 finale intanto 2 atleti provano l'attacco decisivo sull'ultimo sull'ultimo trequanto che vale 3 punti c'è Pro Boss pronto a sferrare l'ultimo sprint grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti